La prima cosa che dobbiamo dire per me davanti ai servizi che abbiamo sentito è che chi viene qua delinque, violenta, ruba, può scappare da qualunque tipo di cosa, va rimandato a casa sua, non esiste, può scappare anche da una guerra, ma se viene qua e violenta qualcuno, ruba o uccide, non ci deve rimanere, questa è la prima cosa.